Dovevo farlo Allora prima di tutto stai borbottando No aspetta in realtà tutto si è scatenato Perché Cico ha detto ho visto per tu fanno uscire dalla venta Allora adesso ti faccio Mi faccio perdonare Allora Geric per favore Fingi che Cico sia una casalinga e seducilo In modo family friendly però Cico? Eh vai Vuoi venire a letto? No 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 Eccessivo 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 Decisamente eccessivo Eccessivo Geric poi ti è venuto letteralmente troppo facile farlo questa cosa qua Eh lo so e sono abituato Eh no 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 e niente Oh però magari era la solito le casalinga E diceva tipo per rifare le lenzuola Può essere quindi crediamo che sia così e basta Ok terminiamola qui perché prima che vado a Geric Porca miseria un po' di resistenza E non ce la faccio tu lo sai Basta Aceptiamo